Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio far vedere gli ultimi acquisti che abbiamo fatto dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola, che sono un po' di colori che abbiamo ordinato perché ovviamente a mia moglie servono sempre colori anche per il lavoro che fa che non è soltanto passione e modellismo nel pitturare ma lo fa anche come lavoro infatti come vi dico sempre trovate in descrizione e qui note in sovrimpressione se volete ordinare delle stampe 3D di tutti i tipi, rack per i colori oppure volete ordinare anche edifici per giocare al vostro wargame preferito o anche miniature e progetti 3D vari, contattateci perché siamo oltretutto anche in periodo di sconti da qui a fine anno e quindi facciamo dei prezzi molto bassi tra l'altro in questi prezzi molto bassi ci mettiamo anche direttamente compresa la spedizione postale e nell'ultimo ordine fatto dalla Gioco Libreria Semola abbiamo preso un po' di nuovi colori e in più una miniatura da collezione che ora vi facciamo vedere da vicino che è Red Gobbo, ragazzi è veramente stupendo, è una miniatura da collezione della GV che andrà fino al 31 dicembre, fino a fine anno sono quelle classiche scatoline a tiratura limitatissima che una volta finite non le trovate più e diventano pezzi da collezione perché sono miniature uniche e in questo caso si vede un Goblin con Bunka, il salta squig e lo vedete vestito da Babbo Natale che invece di portare dolcetti e regali ai bambini porta candelotti di dinamite quindi una figata assurda mia moglie l'ha dipinto e ve lo faccio vedere a breve dopo la sigla questa come vedete è la scatola in tiratura limitata da collezione di Red Gobbo che ci è stata mandata direttamente dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola ora ve la fa vedere anche dall'altra parte dietro ed è veramente spettacolare perché poi tra l'altro sul sito ci sono anche le regole per utilizzarlo quindi non è soltanto una miniatura che comprate bella da collezione e la mettete lì in vetrina ma la potete usare anche schierandolo sul campo di battaglia con i pelle verde mentre questo, spero che si veda con la giusta illuminazione che gli renda onore a mia moglie questo è Red Gobbo, lui, montato in dipinto da mia moglie e praticamente è un Goblino vestito da Babbo Natale che guardate veramente che spettacolo sarebbe anche carino vederlo sul campo di battaglia sono di quelle cose simpatiche però fatte bene e secondo me se siete amanti e collezionisti della GV non ve lo fate scappare perché fra un mese sarà introvabile andando poi direttamente sul sito del nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola che tanto comunque trovate sempre come primo link in descrizione a tutti quanti i video che carico sul canale vedete che le novità sono parecchie e andando qua su, su Giochi e Modellismo cliccate, vabbè, se vi interessa Age of Sigmar cliccate qui Warhammer 40.000 cliccate qui Blood Bowl e tutti gli altri prodotti oppure generico in cima Games Workshop e nella pagina principale il catalogo è sempre aggiornato giorno dopo giorno perché tutte, tutte le novità che escono in casa Games Workshop GV la Gioco Libreria Semola le ordina quindi ha sempre tutte le ultime novità uscite ad esempio questa qua a 110 euro che è una pattuglia da combattimento diciamo un set di partenza il vecchio QG da combattimento dei Black Templars perché vi ricordo per ora che nel nuovo Rammer 40.000 è uscito il nuovo codex dei Templari Neri dei Black Templars che sono una figata assurda mi ricordano anche un po' da vicino alla Death Watch come stile e per alcuni versi sono anche più belli guardate là che po' po' di miniature pacchettino con addirittura 17 miniature più un mezzo quindi una scatola base sicuramente per iniziare poi uscita il Cappellano Grimaldus qua giù un'altra bellissima uscita guardate che cavolo di spettacolo vabbè che ve lo sto a dire le miniature GV sono sempre il top e comunque abbiamo il catalogo costantemente aggiornato come potete vedere anche e vi ricordo cosa importantissima sul White Dwarf e White Dwarf mi raccomando se volete restare sempre aggiornati sulle ultime uscite della GV ma anche le cose che magari non ancora annunciate almeno in via pubblica sui social ma che usciranno prossimamente su White Dwarf c'è tutto poi dovremmo avere questo se non erro dovrebbe essere una di quelle da sì commemorativa quindi una di quelle da collezione guardate bello il lieutenant di Primaris con lo scudo e la spada le miniature commemorative sono quelle come Red Gobbo che praticamente sono a tiratura limitata quindi queste sono veramente pezzi da collezione perché poi non è che le ritrovate proprio non verranno più fatte quindi quello è solo un pezzo a parte poi abbiamo Catastrofe, Massa Critica insomma un bel po' di manuali anche su... eccolo qui tra l'altro Red Gobbo che è bellissimo per me è la miniatura più bella il Goblino che porta candelotti vestito da Babbo Natale poi abbiamo altre espansioni roba di Blood Bowl anche perché c'è molta roba nuova di Blood Bowl in uscite Blood Bowl lo sapete è un gioco dove vi comprate il set con la vostra banda o per meglio dire squadra e praticamente avete già finito di collezionare se poi ci volete aggiungere qualcosa altro però praticamente avete finito e la nuova scatola di Warcry che questa volta vedeva dentro la scatola i Darkoad Savagers contro i Tarantulos Brod che sono questi qua che sono veramente spettacolari bellissimi e poi abbiamo ancora uscite di Lord of the Rings il gioco di miniature perché la GV non ha mai smesso di pubblicare roba anche di questo loro gioco che va veramente da paura e in questo caso vediamo il Witch King di Angmar il Re Stregone di Angmar e dovrebbe essere anche quello di Minas Morgul se non erro veramente bellissimo quindi catalogo in costante aggiornamento sempre pieno di roba e guardate più si va avanti più si va avanti sempre nuovo 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 guardate veramente quanta roba che c'è c'è da perdersi nel sito della gioco libreria semola e abbiamo un'altra miniatura commemorativa che anche questa ragazzi dateci un occhio perché guardate qua è un Vampire Lord io penso difficilmente avrete visto qualcosa di così bello con le regole per scherarlo sul campo in Age of Sigmar ma ripeto tiratura limitata non lo comprate ora il prossimo anno non ci sarà più quindi comunque nel caso ecco fatevi un regalino usate sempre il codice sconto ricordatevi Coridan 7 per avere uno sconto del 7% e se superate le 79 euro di spesa complessiva sul sito della gioco libreria semola spese postali gratuite ed in 48 ore vi arriva il pacco a casa in tutta Europa quindi anche se state fuori dall'Italia è lo stesso ragazzi c'è veramente tanta roba e fateci un bel salto ciao alla prossima grazie a tutti